Oggi ha 43 anni ed è arrivato nella nostra provincia da bambino con i genitori. È tra le 50 persone a cui l'Emporio Solidale di Piacenza, attraverso il suo sportello dedicato, ha trovato lavoro nel 2022. MP, queste le iniziali per tutelare la sua privacy, ha una famiglia numerosa, composta da moglie e quattro figli. A fine 2021 arriva il buio. L'azienda per cui lavora da anni si trasferisce e l'uomo resta disoccupato. Non si dà per vinto. La moglie per fortuna lavora, ma non basta per sfamare tutti. Si apre uno spiraglio. Grazie a un assistente sociale, l'uomo prende contatto con l'Emporio Solidale. L'aiuto è immediato, sia come rifornimenti alimentari, sia come supporto nella ricerca del lavoro. L'uomo viene assunto e con lui anche il figlio. Il 2021, dove lavoravo, si è trasferita a un'altra città. Quindi per andare avanti e indietro non potevo. Quindi si hanno lasciato a casa. Ho la mia assistenza sociale, ci ho parlato di questo discorso. Lì mi ha mandato all'Emporio Solidale. L'Emporio Solidale dopo una decina di giorni mi hanno chiamato. Mi hanno chiamato dicendomi che tu puoi avere un po' di spese. Così mi davano le spese ogni mesi. E da lì mi ha fatto il curriculum mia. A un certo punto mi chiamano all'agenzia dicendomi che c'è una ditta che vuole assumere. Dopo lo stage mi hanno assunto. Ho fatto entrare anche i miei figli a lavorare con me. Cosa consigli anche a chi si trova in questa situazione? Di non perdere la speranza? Sì, le persone che sono cadute io di non perdere l'esperanza. Tenere sempre duro, cercare, andare avanti, cercare lavoro, andare a girare per le agenzie. Non stare a dormire, non stare a letto. Girare, cercare, chiedere le persone. Dio grande. Prima o poi troverai il punto giusto, un buco giusto, devi portare un pezzo di pane a casa. Le persone non devono proprio lasciarsi andare. E cosa possiamo dire dell'Emporio Solidale che comunque le ha dato una seconda possibilità? Insomma è importante che ci siano queste realtà sul territorio. Tutti i volontari, le lidi, tutti quelli che sono lì, sono persone gentili. Sono persone che ti danno la mano, ti chiedono se hai bisogno di qualcosa, ti aiutano. No. No.